Sono scesi in campo per la seconda giornata del girone A della Coppa Italia 2019-2020, i padroni di casa del Barcafe Fanelli e lo sporting team del presidente barra allenatore, barra magazziniere, barra direttore sportivo, barra autista, barra massaggiatore Enzo Boccassini. Ci hanno provato in tutti i modi, cambiando schema una ventina di volte i gialloneri dello sporting team, ma il Barcafe Fanelli ha portato a casa i tre punti con una gara pregna di pragmatismo e sostanza, conditi con una spolveratina di cinismo, il che non guasta. Da segnalare anche due rigori sbagliati per gli ospiti che, secondo fonti vicine alla squadra, si alleneranno in una località segreta nel deserto del Nevada. Partita diretta dal signor Marangi della sezione Asi di Taranto, ma noi andiamo subito in cronaca. Intorno al terzo minuto i blues premono sull'acceleratore portando Tufaro alla penetrazione in aria. Il suo diretto avversario lo contrasta fallosamente, costringendo l'arbitro a concedere il rigore a Barcafe Fanelli. Sul dischetto va Luigi Quaranta che calcia centrale ma potente. Nulla da fare per quarto che pure aveva intuito. Cigniero lanciato sulla fascia destra e si porta vicino all'area avversaria. Rientra e dal limite scocca un tiro attesissimo a fil di palo. Palla fuori. Cinque lancia in profondità Agnichiarico sulla sinistra. Il numero 32 blu si sistema la palla e poi effettua un traversone per Bucogliero che al volo spacca in due la porta difesa da quarto che deve capitolare per la seconda volta. Un golasso da altri tempi. Finalmente si vedono i giallonelli dello Sporting Team. Il pallonetto sparato dal limite del fallo laterale costringe lo russo la parata in due tempi. Azione in velocità e tutta di prima per i padroni di casa di Barcafe Fanelli. Cigniero arriva di gran carriera sul pallone stropicciandosi anche le ginocchia ma quarto si supera bloccando a terra con grande freddezza. Rimessa laterale in attacco per lo Sporting Team. Spallata a maldestra di Anglano che affossa Fabio Serse. L'arbitro è ben appostato e concede il penalti a favore dei gialloneri. Buonamico si presenta sul dischetto per la battuta. Lo russo respinge e si genera poi un parapiglia in area che vede la sfera rimbalzare di qua e di là un po' di volte. Alla fine la palla ritorna a Buonamico che la spara al secondo piano. La signora non ha voluto restituire il pallone. Pregevolissimo assist di Cassanelli per Cigniero che però non ne approfitta. Pallone facile per quarto che blocca. Lancio lungo della difesa giallonera. Papa prolunga di testa per Buonamico che si inserisce di prepotenza proiettandosi in porta. Ma lo russo in versione kamikaze salva. Il secondo tempo si apre con questa rimessa in attacco di Sporting Team. La difesa blu ribatte sui piedi di Galasso che colpisce al volo in splendida coordinazione. La risposta di lo russo è altrettanto spettacolare. Anni chiarico viene servito lungo l'out di sinistra. L'attaccante grottagliese si esibisce in uno slalom gigante che però termina la sua corsa a seguito di un fallo in piena area di rigore. Ma Ranji concede la massima punizione. Mattia Martucci ha la battuta. Quarto intuisce di nuovo la traiettoria ma deve capitolare. 3 a 0. Missile intercontinentale sparato da Carlo Venditozzi. Lo russo si brucia le mani ma alza sulla traversa. Paura per lo Sporting Team al diciassettesimo della ripresa. Cignero va in fuga sulla fascia sinistra. Lo scambio con un compagno lo porta in area dove scheggia la traversa con una sciabolata tutt'altro che morbida. Francesco 5 pesca a nicchiarico al limite dell'area. Il gioco di prestigio del puntero blu non sortisce l'effetto sperato perché quarto respinge il suo tiro. Su un calcio di punizione dello Sporting Team l'arbitro ravvede un tocco di mano all'interno dell'area grottagliese e così fischia il rigore per i gialloneri. Portacci si incarica della trasformazione del penalty ma anche lui spreca calciando a lato. Al povero Enzo Boccassini non resta che sperare che l'arbitro non conceda più nessun rigore ai suoi. E infatti arriva il gol per lo Sporting Team su azione. E che azione? Buon amico chiede la triangolazione a Galeone che gli restituisce il pallone. Il numero 18 giallonero si accentra e dal limite fa esplodere un sinistro eccezionale che si incune all'incrocio nonostante l'intervento di lo russo. Il presidente in lacrime alla vista di questa perla. Ed era anche l'ultima azione degna di nota della gara perché arriva il triplice fischio finale dell'arbitro che manda tutti a nanna. Tre punti per Varcafe Fanelli che balza meritatamente in testa al girone. Noi ci vediamo alla prossima amici. Grazie. Grazie.